Ciao agli amici di Magride, siamo in compagnia di Marco Olmo, uno dei più forti ultrapodisti in circolazione. 62 anni e ancora tantissima voglia di correre. Ciao Marco! Ciao a tutti! Ciao, benvenuto con noi e grazie di aver accettato questa intervista. È un piacere mio, se mi invitano mi fa piacere, vuol dire che qualcuno si ricorda ancora che c'è Olmo. Ma certo, ci ricordiamo tutti insomma. Senti, la notiziona è che tu sarai presente dal 14 al 16 giugno a Magride, la corsa di 100 km, suddivisa in tre tappe, che si disputerà in provincia di Pordenone è una delle gare più difficili proprio anche per le condizioni climatiche, per le condizioni avverse che è naturalmente il paesaggio dagli atleti in lizza. Come ti stai preparando a questo appuntamento, a questo evento importante? Ma io non ho tabelle, io sono un po' la buona che corro e basta, io corro di solito in montagna che qui sono in mezzo alle montagne e come preparo un po' tutte le gare, dipende un po' dalla salita e dalla discesa che c'è. Questa mi pare sia abbastanza piatta, quindi saranno sassoni, come ho detto. Certo. Conosci già la conformazione del paesaggio? Ti sei informato? Flora? Fauna? Ti sei informato? No, ho visto qualcosa su internet, però io non sono uno che si informa più di tanto, sono dei disinformati. Senti, mi hai detto tu prima che sei reduce dall'importante gara, il 2 marzo sei tornato e sei andato appunto nelle Canarie. Come è andata? Raccontaci questa tua esperienza. È andata abbastanza bene, ho fatto la distanza media di 83 km e qualcosa, avevamo 4.700, ho impiegato meno di 10 ore, quindi penso che per la mia età sia stato un buon risultato. Poi c'è anche stata un po' di pioggia, un po' di percorsi un po' bagnati che io non gradisco molto, però uno è lì, se viene su un alluvione allora si ritira, però sono un po' di gocce e si continua. Certo, certo, certo. Perché hai scelto tra tanti sport e soprattutto anche tra tante specialità dell'atletica leggera, parliamo sempre di atletica, di trail, ecco, proprio l'ultrapodismo e le corse di così lunga distanza. Cos'è che ti affascina? Quando è che hai cominciato e fino a quando naturalmente vorrai continuare a percorrere queste distanze importanti e a cimentarti su questi percorsi? Io mi trovo bene su distanze lunghe, poi mi piace correre nella natura, non tanto su asfalto, quindi cerco gara che ci sia poco asfalto. Infatti ho mai corso una maratona in mia vita e quasi tutti gli alledi cercano di avere un tempo in maratona, io neanche un tempo mediocre in maratona non ce l'ho perché non ho mai fatto una maratona. Certo, certo. Queste sono gare un po' più massacranti forse per la lunghezza, per il percorso, però si corre in natura, si corre in posti meravigliosi. Comunque quello che penso io è che i sentieri, il deserto, le montagne c'erano prima del tartan e dell'asfalto, quindi penso sia una corsa anche più naturale che l'asfalto saranno cent'anni che c'è il tartan, molto meno, quindi penso sia una corsa più naturale che c'erano già prima i trasferimenti che si facevano i nostri montanari. Certo, certo, certo. Ti senti un super atleta visto che naturalmente hai un palmarès di vittorie o di traguardi importanti e soprattutto perché corri a distanze lunghe ma anche molto impegnative? Sono quelle che mi trovo bene, d'altronde ognuno fa quella che si trova meglio, come dicevo. Certo, lo spettacolo è fare 100 metri, 400 metri, quelle distanze lì sono spettacolari, però sono cose da giorni, da pochi eventi che io non mi sognerei neanche di passarci vicino a questi. Certo, leggevo la tua biografia e hai cominciato questa esperienza da ultrapodista a tardi, a 27 anni. Qual è stata la tua, la molla che ti ha spinto? Forse la molla della riscatta perché come uno inizia, almeno nel mio caso, si inizia come perdente dalle ultime posizioni e si cerca come cocciutaggine da buon mulo di testa dura, di cercare di migliorarsi e di scalare la classifica. Certo, certo, certo. E da Magreid cosa ti aspetti? Ma ormai, come ho già detto, non sono più un'alletta di punta, sono ormai un mediocre. Cercherò di fare del mio meglio, come si fa sempre, quando si ha un pettorale ci si dà il meglio. Certo. Vedremo un po' di non arrivare proprio tra gli ultimi. Certo. Ecco, 62 anni, dicevamo, e ancora tantissima voglia di correre. Come si svolgono? Sono 64, 65 ottobre. Ecco, 65 addirittura. 65 anni, diciamo così, e ancora tantissima voglia di correre. Tutti si chiederanno, come si svolgono le giornate di Marco Olmo e naturalmente quali tipologie di allenamento svolgi? Le mie giornate sono semplicissime. Vado a correre al mattino perché così mi alzo, faccio una piccola colazione, mi trovo il pensiero dell'allenamento. Poi mi faccio la mia passeggiata in tarda mattinata, nel primo pomeriggio, fino alla casa dei miei suoceri o così in giro, due orette, camminando, insomma, così tranquillo. E niente, guardo un po' di televisione, documentari, qualche film, insomma, non ho un grande fratello. Sei abbastanza tecnologico, però tu mi dici, perché non guardi reality come il grande fratello, però comunque con la tecnologia vai d'accordo? Ma non più di tanto, sono solo 3-4 anni che ho computer, non ho l'iPhone, non ho un telefono normale, non sono molto tecnologico. Ho capito. Senti, in tutti questi tuoi anni di carriera e di tantissime gare naturalmente svolte, fatte, quindi hai conosciuto, insomma, tantissime persone, hai conosciuto l'Europa, il mondo, insomma, in lungo e in largo. Hai un ricordo particolare, ti senti di dire a me e a tutti appunto gli amici di Magride qual è la corsa che ti ha emozionato di più e la persona forse che ti ha colpito di più? Questa è una domanda molto difficile per uno che è 35-38 anni che corre, trovare la gara più bella, il momento più bello. Bisogna sempre dividere le gare. Possono essere belle per il paesaggio e qui andiamo sull'Akakus in Libia. Possono essere belle per il pubblico che c'è e qui andiamo sul Monte Bianco che all'arrivo del Monte Bianco con 40.000 persone intorno a Samoni, quindi è una cosa da brividi. Dire una gara più bella come percorso, la gara più bella è quella qui da noi, che ormai forse non si farà neanche più, che Romagnon, che si attraversano le Alpi, si vedono diversi paesaggi in un'unica gara. Si parte da Limone, si arriva a Capdai, si arriva al mare, insomma. Si passano le faggette, le pinette, la macchia mediterranea, gli olivetti, insomma. Certo. Questa è una... dire una gara più bella è impossibile, visto che ne ho fatte migliaia, non mi ricordo quante ne ho fatte, non le ho segnate, perché naturalmente... E anche i personaggi, ci sono dei personaggi marocchini che hanno impressionato, Kylian è uno che impressiona. Sì. Però anche Kylian è uno, forse è uno dei primi che ho visto correre, quando ho iniziato a livello provinciale, che forse ti impressiona, perché sei lì dalle ultime posizioni, vedi questo che vince la gara di 10 km, che ti sembra un super Dio. Poi vedi che quando riesci a vincere non cambia niente, capisci che rimani sempre quello che sei. Non è che vincendo una gara o vincendo il Monte Bianco o non so che cosa ti cambia, diventi un altro. La prima salita che trovi ti viene il fiatone, quindi ti accorgi che sei sempre quello di prima. Certo, certo, certo. Tu sei già stato in Friuli e in provincia di Pordenone, se non sbaglio due anni fa, mi sembra. Sì, sono stato a fare la magra di Montantra, la distanza di 60 km. Poi ero stato a Pordenone-Regge, Ospite, con Pizzolato. Certo. Ecco, che esperienza hai fatto? Come ti sei trovato nel nostro territorio? E i ricordi erano più belli che naturalmente hai avuto? Ma come gara era abbastanza bella. Per essere un trail era un po' troppo piatto, perché c'erano 15 km all'inizio o 12 e 15 o 16 alla fine in piano. Per essere un trail forse quella era un po'. Comunque, a me il piatto non dà fastidio, ma danno più fastidio le disese. Quindi io mi sono trovato abbastanza bene. Come calore di pubblico, parlando di serata al Pordenone-Regge, c'era molta gente. Forse erano lì per Pizzolato. Comunque c'era la platea piena. Certo, certo, certo. Oltre alla passione per lo sport, alla natura, qual è un altro hobby di Marco Olmo? Ti piace la musica, la lettura, la scrittura? Raccontaci un po' della tua vita. Diciamo, come sport, mi piaceva il motocross, avevo un po' l'hobby della moto, quando ero giovane della moto da cross, da fuori strada. Ormai non è più cosa per me, perché l'ultimo che ho avuto sarà un 15 anni fa, ho visto che non ero più l'età per fare le derapate, per fare le cose un po' bene, facevo solo più pena. Quindi ho smesso ogni cosa sull'età. Come hobby, la musica mi piace, perché non capendo niente di inglese, a me piacciono i rock, queste musiche inglesi, quindi non ci capisco niente, però mi piacciono sentire. Mi piacciono i film drammati, thriller, insomma, anche le buone commedie. Purtroppo qui bisogna andare quasi sempre su film americani o... Certo. Mi spiace anche questo, perché dei buoni, insomma, dei buoni film, si vedono, però non ce n'è poi tanti. Certo, certo. La gara di Magritte, giugno, solitamente, insomma, a parte mi sembra una o due edizioni, insomma, il sole è sempre stato dalla parte, insomma, degli atleti. Sarà anche un'occasione per te per fare turismo, per visitare ulteriormente i nostri posti, o sarei concentrato solo ed esclusivamente sulla gara? Ma, prima cosa è sulla gara, perché vengo lì per fare la gara, poi se c'è possibilità di vedere qualcosa, senz'altro, io vengo anch'io da posti magredi, penso che voglio dire posti magri, qui abbiamo la Valle Maira, che è magra veramente. Sicuramente la mia Valle, Valle Vermelagna, non è che i nostri montanari vivessero un gran che bene, perché io li ho ancora visti questi scorsi del dopoguerra, quando io ero ragazzino, che io arrivo dal mondo dei vinti, come scriveva Muto Revelli nel suo libro, che si è lasciato indietro la campagna per andare in fabbrica, per finire in un cantiere, che poi non sei più autonomo, hai qualche soldino in più, però sei dipendente, insomma, dipendente vuol dire dipendere. Certo, ecco, adesso siamo a metà marzo, quindi mancano ancora alcuni mesi all'appuntamento, prima di magride, farai altre gare, ti cimenterai l'altra? Io ho la Marathon de Sable, inizio aprile, poi ne ho ancora una in Sardegna, di tre giorni, a metà maggio, in apri a metà di maggio. Certo, certo, certo. Bene. Mi sono impegnato un po' troppo. Certo, e niente, a livello invece, ecco, caratteriale, tu che persona sei, sei una persona emotiva, ti piace la sfida, ti piace, ecco, descriverci un po' il tuo carattere, com'è e con che spirito affronti ogni gara, visto che ogni anno naturalmente ne fai parecchie e sempre a livelli molto sostenuti. Ma io sono uno molto per le sfide, cercare di migliorarsi, di battere se stessi, ormai questo già non riesco più a battere me stesso, perché il meglio penso di averlo dato, quindi questo per me è un po' una cosa dura, perché il primo avversario sono io, di cercare di migliorare, di fare del mio meglio. Certo, certo. Io anche sul lavoro ero un po', siccome favo un lavoro di movimento terra su, in una cava, dovevo fare una produzione, quindi dovevo cercare di fare bene e veloce, queste sono le due cose che cercavo di mettere assieme. Certo, certo. Quindi per me la vita è un po' sempre una sfida. Una sfida, certo, certo, certo. E sarà naturalmente una sfida, nonostante tu ci dica che ormai il meglio l'hai già dato, sarà una sfida, anche questa edizione appunto di Magride, altrimenti non avresti... Senz'altro, una sfida con me stesso e poi direi che c'è qualche concorrente, qualcuno da battere ci sarà. una domanda che incuriosisce me, ma anche un po' tutti gli agonisti e non agonisti, ma anche i semplici appassionati di questo sport, fino a quando correrà Marco Olmo? Ti sei dato una scadenza? No, una scadenza non me la sono data, visto che questo maratoneta di 102 anni o 101, ancora ho fatto dieci chilometri, io senz'altro non arriverò a quell'età lì, però spero di correre ancora un po' di anni. Certo, il tuo sogno nel cassetto, adesso che sei alla sogno ormai diciamo dei 65 anni, ne coltivi ancora, come tutte le persone, spero. Sì, ma dentro non ci sentiamo vecchi, mi sento solo vecchio vedendomi in uno specchio, sto guardando la carta di identità, dentro ci rimane un po' indietro, non si va avanti con gli anni. Questo forse ci aiuta a affrontare la vita con delle speranze ancora di poter fare qualcosa, perché uno quando si sente vecchio, che è finito e cosa, c'è un crollo psicologico, non solo fisico. Certo, ecco a questo proposito un tu desiderio più forte, vorresti partecipare a una gara che magari non sei mai riuscito a partecipare, hai un obiettivo, insomma che ti sei dato da qui, a lungo termine. Il mio sogno era quello di fare una Parigi Dakar con un camion o cosa, visto che io ho guidato l'autotraining quando ero giovane. Sì. Quello è proprio un sogno nel cassetto, perché poi avendo visto il deserto dopo disto ho capito che era meglio farlo a piedi che in moto, in macchina, c'è un rischio di insabbiarsi. Certo. E ho fatto una serata con uno qui, Boano, che ha fatto un terzo o quarto alla Parigi Dakar, ai tempi che si arrivava a Dakar. E ho visto i filmati e mi sono detto, no a piedi si fatica molto meno, non ho sbagliato niente a correre a piedi. Certo, certo, certo. Ecco, Marco Olmo e il trail e l'ultra trail, un binomio naturalmente inscindibile. Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi, alle persone che come te hanno cominciato ad appassionarsi, ad avere risultati in questo sport e soprattutto cosa è necessario fisicamente e mentalmente per avvicinarsi a una disciplina così dura e a territori, insomma, di gara così intervi? Ma io quando ho iniziato a correre ho letto qualche libro, siccome non ho mai avuto allenatori, niente. Tutto autodesatta. E ho visto che nella maratona hanno vinto gente piccola, gente alta, gente con una capacità polmonare grande, gente con... Insomma, le gare lunghe sono un po' libera a tutti, a tutte le età. Io ho molti fans che mi iscrivono che hanno visto il mio libro, il mio DVD e si sono messi a correre, c'è anche gente che si è messa a correre grazie a me, è arrivata a quarta al Monte Bianco, tanto per dirmi. Grandi soddisfazioni. Quindi sono stato un po' uno stimolo. Io penso di aver dato dei buoni esempi e spero che di fatti a volte molti giovani vengono a farmi i complimenti che sono un esempio. Finché ti rifa uno di 50 anni o oltre dici vabbè è uno più o meno che come età. Quando ti rifa un giovane vuol dire che hai colpito qualcosa perché sei due generazioni avanti e riesci a dire qualcosa comunque. Certo. Marco, per strada la gente ti conosce, ti ferma, chiede una foto, sei nel tuo piccolo diciamo un VIP, insomma, diciamo così. Diciamo nelle gare sì, per strada un po' meno. Per strada qualcuno mi guarda. Non so se mi conoscono o se mi guardano perché sono magro o malandato e dicono questo o a qualche malattia brutta. C'è sempre un po' il dubbio. Infatti quando facevo, ultimamente non ho più fatto dei viaggi organizzati, mi presentavo sempre di guarda io sono un'ultra maratoneta, non ho né l'AIDS né un tumore. Certo. Tanto per mettersi a posto con chi è lì che ti guarda magari e dici boh questo qui. Certo, certo. I ragazzi, soprattutto attraverso i social network, tramite email o altro, cosa ti scrivono? Quale forse, forse anche grazie a loro che naturalmente tu hai ancora più enfasi, ancora più volontà ad affrontare, insomma, sempre più sfide impegnative e nuove sfide, è uno stimolo sicuramente. Sì, infatti su Facebook ho un sacco di amici, molti mi piace perché ormai ho superato i 5.000 da un anno e mezzo o due anni. È un VIP appunto. E quindi questo è anche uno stimolo a non deluderli e cercare di essere sempre, come dicevo prima, un riferimento e essere anche una persona seria perché nella vita non c'è solo la corsa, la corsa è un po' una disciplina che ti aiuta a vedere la vita. Durante la corsa quando si corre non per inseguire, non si è inseguiti, si ragiona molto meglio, si risolvono anche piccole questioni personali o cose, si pensa meglio, insomma, si sente meglio con se stessi. Certo, certo. Questione, parliamo di doping anabolizzanti. Purtroppo non è il tuo caso, però abbiamo visto lo sport più volte macchiato da questa piaga profonda. Qual è il tuo punto di vista e soprattutto se ti ha colpito il caso Schwarzer di quest'estate? Qui è un tasto molto molto delicato. Purtroppo a certi livelli c'è un'equipe di medici e non si sa bene a cosa servono. Io faccio sempre la domanda, ma come mai tutti questi alletti giovani e forti nel fiore della salute, se lo sport fa bene non dovrebbero servire tutti questi medici. Certo, certo, certo. Io faccio una visita all'anno sportiva perché devo farla, diversamente non vado dal medico per niente, non ho nessuno che mi segue, cerco di starne fuori. Come mi diceva il mio capo quando lavoravo, tu tutti i giorni ti fai una visita perché vai a correre e sai un po' di raffreddore, se non l'hai digerito o qualcosa te ne accorgi dal rendimento. Io penso che lo sport dovrebbe servire a stare in salute, quindi la medicina sportiva non dovrebbe neanche esistere. Io sarei per fare la visita a chi non fa sport e chi fa sport, ti dicevo, se hai qualcosa te lo senti, se hai la macchina in gara sferma non te ne accorgi se hai la macchina. Certo, certo, certo. Tu parlavi di salute, tu godi di ultima salute, speriamo di vederti in ultima salute magari salire anche su uno scrano del podio perché sognare a suo punto non è proibito veramente a nessuno, seguendo il tuo esempio, alla gara insomma di Magritte. Sarebbe bello, però ormai lo so che è un sogno nel cassetto anche quello, ormai bisogna stare con i piedi per terra ma illudersi. Certo, certo. Noi dello staff insomma di Magritte insomma ti ringraziamo ancora per la tua insomma cortesia, per averci insomma dato la possibilità di intervistarti e ti aspettiamo a braccia aperte a giugno, a metà giugno nei Magritte. Ok, grazie a voi e un saluto a tutti chi verrà lì, ci vediamo lì, grazie. Un salutone e un abbraccio. Ciao Marco. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.